E dunque c'è anche un altro aspetto molto gradevole legato al campionato regionale di tolettatura, siamo con Asse Sicilia, con Vito Brullo e con tutta l'equip di Asse Sicilia perché voi fornite un bel servizio, anche gustoso. Diciamo che da qualche anno stiamo seguendo la linea di promuovere l'arancia rossa del nostro territorio, in particolare un modo l'arancia rosso di Paternò, un'arancia che spesso viene dimenticata e che ha delle vitamine e delle proprietà che sono non indifferenti, quindi ci sembra giusto portare avanti come associazione questo tipo di promozione a favore del territorio. Non dimentichiamoci che noi non le facciamo soltanto qua, ma in questo momento siamo anche al centro Sicilia dove c'è anche un'esposizione con una rotta che è design preparata dal coordinamento femminile di Asse Sicilia e quindi stiamo cercando un pochettino di portare avanti proprio questa pubblicità a favore del nostro territorio. Questo bel progetto tra l'altro siamo anche in un periodo un po' difficile per l'agricoltura, se ne è parlato parecchio, se ne parla, la Coldiretti stessa ha lanciato un allarme piuttosto pesante, forse scomparirà questa spremuta d'arancia un domani? Noi speriamo di no perché la nostra arancia è unica al mondo, unica perché comunque dipende dal nostro clima, dalla nostra terra, abbiamo l'Etna che influisce molto su quelle che sono le proprietà nutritive. Poi peraltro il colorito della nostra arancia, questa picchimizzazione non è comune in altre parti d'Italia. Quindi speriamo che si riesca a trovare un nuovo modo per sviluppare un nuovo tipo di commercio, peraltro a Paternò già c'è qualche associazione ma anche qualche privato che si sta adoperando per fare delle esportazioni a mo' di porta a porta perché fanno delle spedizioni private, vendono al privato direttamente dal produttore al consumatore, è una cosa che sta iniziando a funzionare, però ovviamente ci vuole una collaborazione e un supporto anche amministrativo da questo punto di vista. D'altra parte abbiamo anche le cartoline, le abbiamo fatte già l'anno scorso, sono uscite le prime due, quest'anno stiamo preparando le altre, questa è la prima di tante serie che stiamo preparando perché ci sono tanti amici che ci stanno supportando, sono delle cartoline che non resteranno nel nostro territorio ma andranno anche fuori. L'anno scorso sono arrivate a San Giovanni Rotondo, a Matera, come promozione diretta. Quest'anno speriamo di farla arrivare anche più lontano. Bene, bene, belle iniziative, buoni propositi, ma allora è pronta la nostra spremuta d'arancia, quella mia e quella di Pratric, vediamo un po' se ci siamo, grazie, guardate tutto dal produttore al consumatore, io me lo bevo, insomma Vito, complimenti a tutti voi, c'è anche Alfio Arcoria che è sempre operativo, stava tagliando l'arancia apposta per me, per favore Alfio, insomma salutiamo, è un nostro fantastico follower di Videostar. E insomma allora a tutti, la salute, io mi bevo la spremuta e insomma facciamo un brindisi, ok?